Ciao ragazzi e benvenuti su Castriub Drums Oggi sono in compagnia di uno e due pacchi enormi che mi sono arrivati da strumentimusicali.net sapete già quello che c'è dentro perché avete già visto il titolo avete già letto tutto, avete fatto le cose e vabbè e quindi non vi devo dire che cosa c'è qui dentro ma posso andare subito a scartarla perché ho una voglia matta di provare quello che c'è qui dentro qui dentro c'è una batteria fenomenale, l'avete visto quindi voglio già ringraziare anche Roland e andiamo ad aprirla raga andiamo ad aprirla perché io non sto più nella pelle proprio malamente però così anzi ecco qua non si vede che cos'è adesso ve la giro anche come al solito ho aperto il pacco al contrario come sempre Roland VAD306 ragazzi questa so già che è una batteria pazzesca perché? per varie cose che vi dirò adesso che cosa vuol dire VAD mentre apro questa batteria super 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 VAD significa V-Drams Acoustic Design che cosa vuol dire praticamente tutta la sensazione di una batteria acustica in una V-Dram quindi le V-Dram le conoscete già di allora ma non ce la posso fare oggi di Roland ma hanno implementato un po' di cose che vi dirò all'interno di questo video che rendono questa batteria ancora più simile a un'acustica quindi veramente che non ha senso questa batteria lo vedrete non ha senso sono gasati si vede che sono gasato ragazzi voglio aprire tutto perché non è solo questione del suono ragazzi sta batteria una questione di design una questione di cose cose tante cose uuuu cosa ho visto cosa ho visto raga cosa ho visto guardate cosa ho trovato adesso non andrò a spacchettarla tutta ma questa ve la devo far vedere assolutamente pesa pochissimo tra l'altro è leggerissima raga cassa Roland da 20 pollici super sottile che però ti fa sembrare veramente a te di suonare una batteria acustica e alla gente che ti vede la stessa sensazione in pratica perché sembra veramente a vederla così se voi la vedete così questa è una cassa normale poi è molto più fine perché così è molto più semplice da portare in giro da maneggiare eccetera e la stessa cosa vale anche per i tom adesso vi prendo i tom questi qua praticamente sono dei tom molto simili a dei tom normali ma il fatto è che Roland ha deciso di farli molto più fini perché alla fine visivamente sono praticamente uguali a dei tom normali ma essendo più stretti sono molto 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 più semplici da trasportare quindi voi avete un rullante e due tom timpano come questa batteria qua in tanto spazio così avete messo tutti i tom uno sopra l'altro e li portate tranquillamente con una panda invece i tom normali ovviamente ci vuole un pochettino più di come si dice come si dice vabbè avete capito c'è il modulo che è questo qui e come vedete c'è scritto TD 17 perché è uguale il modulo a quello della TD 17 di Roland ovviamente e quindi è un modulo super 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 avanzato con un sacco di roba che poi andremo a nin 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 nin.. vedere ve lo faccio vedere giusto così eccovelo qui è un modulo veramente molto 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 figo questo qua con tra l'altro un sacco di cose, coach mode eccetera che abbiamo già visti in un video ma ve lo rispiegherò meglio e oltre questo poi l'altra cosa che non vi sto a far vedere tutto perché perché è una batteria normale alla fine cioè si monta come una batteria normale ci sono queste aste che a parte che sono aste veramente super robuste ragazzi queste aste qua pesano di brutto e di una figata guardate quanto sono belle queste aste con ovviamente un'asta piatto più l'astina per attaccarci il tom però in realtà questa è un'asta normale è un'asta da batteria normale quindi quello che farò adesso è andare a montare la batteria e poi andiamo a vedere veramente quali sono le centinaia di migliaia di figate di questa batteria vi spiego bene a chi è rivolta vi spiego bene il perché di questo vi spiego tante cose perché ci sono un bel po' di cose da dire e un bel po' di cose che non ho mai potuto dire di una batteria su questo canale quindi monto la batteria e andiamo ah intanto mando anche la sigla sigla tutto quello che avete sentito nella sigla è stato fatto con questa via di 306 dico tutto perché sia la questione batteria ovviamente sia la questione basi ci sono delle basi che potrete già vedere su questa centralina qui dove c'è scritto song e questo per dirvi che tutte le varie basi eccetera non sono basi che ho preso da internet ma sono già tutte all'interno di questa centralina qua ma oltre questo voglio spiegarvi un po' veramente come funziona questa batteria perché è veramente veramente una bomba voglio partire dicendovi che il montaggio della batteria è stato super super semplice perché è come una batteria acustica ve lo dicevo già prima ma ci ho messo un quarto d'ora a montarla tutta più o meno un quarto d'ora ed ero pronto per suonare abbiamo quattro tamburi completamente uguali due più piccolini che fanno i tom rullante e timpano invece un po' più grandi charleston due crash e un ride tutto ovviamente customizzabile tutto stoppabile quindi se noi suoniamo il ride magari mi metto le cuffie prima perché non me le metto mai queste cuffie ma con la batteria elettronica effettivamente servono la cassa è molto più grande come vi dicevo prima con un'ottima sensibilità raga la questione sensibilità è un argomento super importante per Roland e dalle batterie si vede veramente questa cosa ogni pelle è veramente particolare pensate che le pelli mesh di Roland sono diverse da tutte le altre perché sono intrecciate a 45 gradi quindi sono doppie una parte di filamento diciamo va in un modo e l'altra è intrecciata a 45 gradi questo permette alla pelle per prima cosa di essere molto 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 più sensibile infatti ha una sensibilità pazzesca talmente sensibile che mi viene da stopparlo con la mano il timpano e oltre questo questa fattura delle pelli gli permette di durare molto 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 di più infatti io ho sempre usato pelli mesh Roland ma sinceramente quando le ho messe non mi è mai capitato di doverle cambiare perché erano usurate quindi durano veramente un sacco parlando sempre di suono ogni tamburo ha due zone quindi non ha due zone solo rullante che cosa vuol dire due zone? pelle e rim ma ogni tamburo ha due zone quindi in pratica voi potete decidere di suonare il tom 2 con la pelle e dargli il suono del tamburo normale e sul rim invece dargli un suono completamente diverso tipo un cowbell o uno splash qualsiasi altra cosa la cosa veramente importante di questi suoni Roland è la concezione con cui sono stati fatti ed è una concezione che si chiama PSM che sta per Prismatic Modelling Sound pensate a un prisma avete presente l'album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd? ecco in pratica cosa succede? c'è un fascio bianco che entra dentro un prisma ed escono mille colori questa è l'idea del suono Roland cioè non è come al solito io ad esempio ho un suono di rullante che è sempre quello lì quindi nel momento in cui vado a suonare il rullante velocissimo avrò un suono sempre uguale in questo caso il suono viene modellato tramite un algoritmo quindi non sarà mai lo stesso identico suono ma cambierà sempre un pochettino proprio come nella batteria acustica normale quindi se io vado a suonare un mio ritmo non avrò mai lo stesso 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 identico suono ovviamente si tratta di cose minime di suono ma sono proprio quelle che rendono questa batteria al top e rendono questa batteria avete capito? grazie a tutti andiamo adesso però a parlare un po' della centralina vi spiego bene tutte le varie possibilità che abbiamo per prima cosa qui abbiamo tutti questi tastini dove abbiamo drum kit in cui possiamo scegliere la miriade di kit e di suoni che vogliamo ovviamente se noi andiamo a prendere un qualsiasi suono ad esempio uno che mi piace un sacco è questo Dark Hybrid questo suono è veramente fighissimo e noi possiamo andare a farci in realtà quello che vogliamo possiamo per prima cosa tramite queste due manopole qua possiamo andare a aumentare le basse oppure gli acuti quindi una sorta di equalizzatori diciamo su tutta la batteria possiamo andare a aumentare il volume e possiamo andare a scegliere un sacco di cose su ogni singolo strumento Roland è famosa per questa cosa cioè per il fatto di poter veramente andare a cesellare nel minimo dettaglio ogni suono noi possiamo decidere ovviamente il suono di orullante da dare come potete sentire in questo caso avete sentito due suoni non è uno sbaglio è che io ho cambiato il suono della pelle ma poi sono andato a fare un rimshot e quindi mi ha preso il suono anche del rimshot questo è ovviamente una figata perché voi potete mettergli le ghost e poi potete mettergli il suono di rimshot il suono di orullante normale quando andate a suonare sul bordo e la cosa super importante di ogni suono che andate a impostare sulla vostra batteria è che potete sempre impostare due suoni se volete potete anche metterne solo uno ma se volete anche due suoni contemporaneamente sullo stesso rullante facciamo finta di avere un nostro banco di suoni noi possiamo andare a usare ovviamente solo il banco di suoni di Roland se ci piacciono questi suoni qua possiamo andare a decidere di mettere insieme due suoni in cui abbiamo un suono nativo di Roland e un nostro suono quindi insieme a quello Roland oppure possiamo andare a decidere di mettere due nostri suoni quindi non usare quelli che ci sono all'interno della centralina ma andare a mettere solo i nostri due suoni il problema di quest'ultima cosa qual è? è che se noi andiamo a mettere i nostri due suoni e basta quindi non utilizziamo i suoni della centralina avremo dei suoni che non vanno a utilizzare il PMS cioè quell'algoritmo fighissimo di Roland che ti permette di avere il suono non sempre perfettamente uguale e non fare quindi effetto mitragliatrice che succede sempre nelle batterie elettroniche la cosa che consiglia Roland è quella di mettere un suono nostro se vogliamo usare dei suoni nostri e un suono nativo di Roland in questo modo il suono di Roland utilizzerà quell'algoritmo lì e in più andrà a sommarsi al nostro suono quindi continuerà ad essere molto 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 simile a una batteria acustica come sensazione andando avanti ovviamente oltre ad un lante adesso mettiamone uno normale possiamo andare a scegliere ogni tamburo come vogliamo basta suonare il tamburo ci apparirà sulla centralina e poi andiamo a scegliere il suono che vogliamo e questa cosa la possiamo fare col tom con i piatti, con la cassa, quello che vogliamo oltre a questo poi possiamo andare a cliccare su level qua per decidere proprio abbiamo un mixer con tutta la batteria quindi noi suoniamo sul rullante che in questo caso è un po' forte e vado ad abbassare il livello sentite? dopo aver fatto questo possiamo ovviamente qui non lo vedete bene perché c'è il charleston che rompe un po' le scatole ma ci sono gli user sample cioè i nostri sample quelli che possiamo caricare poi possiamo andare a scegliere per ogni strumento della nostra batteria l'accordatura se più alta o più bassa questo possiamo farlo per ogni rullante per ogni cassa per ogni piatto per tutto quanto quindi se troviamo il nostro rullante che ci piace ma vogliamo che sia un filo più basso di intonazione ad esempio un filo più alto perché magari stiamo facendo funky allora lo possiamo tranquillamente fare ma poi magari lo tiriamo giù e diciamo sì ma adesso c'è troppe armoniche quindi andiamo a quello dopo muffling il muffling ci permette di dampare cioè mettere un muffle quindi una sordina ecco non mi veniva in italiano al nostro rullante o a qualsiasi nostro pezzo della batteria anche ai piatti quindi noi in questo caso non abbiamo possiamo mettergli un piccolo pezzo di nastro un altro pezzo di nastro un po' più grande ancora più grande un altro tipo di nastro vedete questo lo stoppa molto di più pian pianino come vedete sono andato avanti senza fermarmi è fin troppo adesso però siamo partiti di qua e siamo arrivati qua e ovviamente non abbiamo solo questi due suoni ma abbiamo tutte le milioni di possibilità possibili per andare a maffolizzare ogni pezzo della batteria quindi ogni armonico del tom o del timpano o di un piatto che ci dà fastidio lo possiamo tranquillamente togliere di ogni rullante di ogni piatto di tutto coach è una modalità che abbiamo già visto anche nell'altra batteria sempre Roland che avevo fatto vedere qualche mese fa forse quasi un anno fa e abbiamo tre possibilità il time check ci dà un click che abbiamo impostato noi e possiamo andare a vedere quanto siamo precisi all'interno del click quindi se le note che suoniamo rimarranno qua all'interno di questo spazietto qua vorrà dire che siamo molto precisi poi lui ci darà comunque anche una percentuale di precisione se invece si spostano avanti ci dirà oh stai attento che sei un po' fuori click altre possibilità il quiet count in cui abbiamo il click che va e viene quindi alcune battute sono tenute dal click quindi sentiamo il click in quarti altre battute invece non abbiamo più il click quindi dobbiamo cercare di andare sempre a tempo oppure il word map noi impostiamo i minuti impostiamo la velocità da cui vogliamo partire la velocità a cui vogliamo arrivare e lui in quei dieci minuti ci farà arrivare dalla velocità che gli abbiamo impostato all'altra velocità finale che gli abbiamo impostato oltre questo come avete già visto ormai ci sono le canzoni le canzoni non sono delle vere e proprie canzoni lunghissime ma la figata secondo me è che sono dei loop quindi dei loop sempre uguali che ci permettono di suonarci sopra e di sperimentare perché io ad esempio se vi faccio sentire tocco uno e io posso andarci a suonare tranquillamente sopra quello che voglio e come avete potuto vedere io posso usare questo per migliorare sul groove ma anche ad esempio se scelgo un'altra canzone tipo Dance 2 che è la numero 7 posso magari decidere di improvvisare quindi questa roba raga è veramente una figata perché puoi far tutto puoi far tutto con questa centralina e con questa batteria qua la cosa che non vi ho detto ma c'è in questa batteria come potete vedere qua adesso non è attiva ma è il bluetooth il bluetooth che avevamo già anche un po' visto nella scorsa batteria di cui vi avevo parlato ma la cosa qual è? la cosa è che col bluetooth voi potete prendere il vostro cellulare che io adesso non ho qua ma vabbè prendete il vostro cellulare andate su youtube ad esempio cercate basi drumless e trovate tutte le basi drumless che volete un esempio potete andare ovunque sul vostro cellulare Spotify fai, fai quello che volete e senza dover attaccare cavi senza dover attaccare niente questo simbolino qua diventerà luminoso e voi potrete ascoltare la musica che vorrete suonare la musica che vorrete e soprattutto se volete potrete anche registrare quello che volete quindi la musica che state ascoltando e state suonando nel mentre potrete registrarla direttamente qua quindi se voi fate ad esempio trunk cover se fate un qualsiasi tipo di registrazione con i vostri amici per i fatti vostri eccetera lo potete fare senza avere una scheda audio senza avere un cavo per attaccarvi alla centralina eccetera in due secondi vi potete registrare e non avrete più problemi ragazzi con questo il video può finire qua io sono contentissimo veramente di aver fatto questa recensione di aver avuto la possibilità di provare questa batteria dal vivo perché l'avevo sempre sentita in video un po' di qua di là ma non ci avevo mai messo veramente le mani sopra quindi sono contentissimo perché è una batteria veramente pazzesca io voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net questo è un altro pacco qui dentro c'è roba per altri video ma mica potevo prendere il pacco di gigante che c'era prima quindi oltre strumentimusicali.net ovviamente ringrazio tantissimo Roland perché ha creato un prodotto del genere quindi è veramente un prodotto pazzesco ragazzi io vi consiglio veramente di provarlo almeno uno strumento del genere perché una batteria così io non l'avevo mai provata ammetto una batteria elettronica di questo tipo con questa tecnologia e tutte queste cose che si possono fare tramite il modulo tramite le pelle tutto quanto non mi era mai capitato di provarla è la migliore batteria elettronica probabilmente che abbia provato e non lo dico l'ho detto l'ho detto l'ho detto e quindi vi consiglio veramente di provarla per chi è questa batteria perché tanti mi diranno eh sì vabbè però una batteria è una figata ma il costo ma le cose ma di qua ma di là raga è vero è vero tutto perché stiamo parlando di una batteria tra le top level comunque come posizionamento ma questa è una batteria che è rivolta a tutti i batteristi che già studiano batteria quindi vogliono una batteria da dire io ho sempre studiato sull'acustica voglio una batteria che sia come un'acustica che mi dia la sensibilità di un'acustica che mi dia i suoni fighi e anche un po' di più in questo caso perché sono già suoni processati di un'acustica quindi e soprattutto ecco una cosa importante che abbia i piatti con la sensibilità di un'acustica che abbia il charleston con la sensibilità di un'acustica questa ce l'ho quindi potete andare tranquilli ovviamente oltre a studiare questa è una batteria che se la portate live è una bomba primo perché da vedere è molto simile alla batteria acustica con la cassa grande e ovviamente sembra subito una batteria normale diciamo se così vogliamo dire e quindi cioè se siete batteristi e volete una batteria elettronica questa quindi con questo fine nel senso che la finisco anche qua il video è già durato un bel po' però ci tenevo a fare questo video bene in cui vi spiegavo veramente bene 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 tutto quello che ha questa batteria in realtà ha ancora tante cose ma comunque spero di avervi spiegato il meglio possibile fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa batteria se già l'avete provata se non l'avete mai provata che fatemi sapere qual è la vostra batteria elettronica preferita qual è la batteria elettronica con cui vi siete sempre trovati meglio così almeno creiamo anche un po' di dibattito un po' di confronto perché comunque io ho provato tante batterie elettroniche ma comunque sto ancora imparando anche io sulle batterie elettroniche quindi sono molto molto curioso fatemi sapere cose e con questo vi ricordo di iscrivervi al canale fare le cose solite ma anche qui sotto in descrizione oltre a tutti i link vi lascio il link della batteria elettronica e tutto trovate anche il link che vi riporto al sito Castube per l'articolo quindi con questo io vi ho detto veramente tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao